C'è una giornata davvero speciale partecipata quella che ha visto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Castellamonte. Sabato 4 dicembre la caserma di strada per Cornia 11 ha aperto alle porte a tantissimi bambini che hanno animato l'iniziativa denominata Un giorno da pompiere. I giovanissimi, che hanno preso parte alla carmessa andata in scena grazie al benestale del comando provinciale di Torino, hanno così avuto l'opportunità di partecipare a una serie di attività predisposte dai volontari guidati dal capo di staccamento Walter Petrino. Tra percorsi a tema, giri sul camion dei pompieri e tanti bei momenti in allegria, i presenti hanno così potuto comprendere quanto sia importante l'operato di chi indossa questa divisa. Nell'occasione sono state anche distribuite delle gustosissime castagne. Ospite dell'evento è una delegazione arrivata da Cervini a Vardonnange, mentre un grazie speciale va all'Associazione Nazionale Carabinieri che hanno dato una preziosa mano per la riuscita della carmessa. Grazie a tutti! Grazie a tutti!